Buongiorno a tutti, un saluto intanto ai militanti di Treviso. Come militante della Liga Veneta, invito i Vertici a sostenere in prima linea la proposta di legge sul referendum per l'indipendenza del Veneto, cercando di stringere accordi e alleanze con tutti i partiti regionalisti e indipendentisti, sia a livello locale che a livello europeo. All'Alepenga, a The Wilders, preferisco Puyolo, lo Scottish National Party. Il nome della Lega non si è poi usato per promuovere fondazioni o sedicenti liste civiche, che tanto stanno minando la stabilità interna del movimento. Si proceda poi a far svolgere i congressi lì dove ci siano ancora i commissariamenti. Noi a Treviso siamo commissariati da un anno e mezzo e vogliamo, il segretario Tosi, l'invito a far svolgere in tempo regolare il congresso. I provvedimenti disciplinari e le regole poi valgano in uguale maniera per tutti, non due pesi e due misure, come troppo spesso accade. Si cerchi infine, più a livello economico, di portare avanti una Lega più liberale e liberista, rilanciando vecchie battaglie come lo sciopero fiscale, ritornando idealmente alle teorie proposte dal vecchio Emiglio. Ci sia chiarezza poi nella linea politica che verrà portata avanti, in modo che anche tra i militanti non ci sia un certo disorientamento, come è avvenuto in troppe e diverse occasioni ultimamente. Infine, ve lo dico col cuore, non venga messo in discussione il ruolo e la storia di Umberto Bossi. Grazie. Viva il Veneto!